L'amministrazione comunale di Ponte Cagnano-Faiano corre ai ripari in vista di una possibile emergenza rifiuti. Nelle settimane scorse è stata avviata un'indagine di mercato finalizzata a cercare una ditta che possa fronteggiare il possibile blocco delle attività da parte del Consorzio di Bacino Salerno II. Un'eventualità da prendere seriamente in considerazione vista l'appaventata interruzione del servizio da parte dell'ente consortile che con varie note ha comunicato la difficoltà a garantire l'efficiente e regolare svolgimento dei servizi affidati per via della precaria situazione economico-finanziaria. All'indagine di mercato hanno risposto sei operatori economici che parteciperanno alla procedura negoziata predisposta da Palazzo di Città. Valore del progetto in questione relativo allo spazzamento, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani per un totale di sei mesi, 1.435.000 euro.